Cesara Buonamici, celebre giornalista del TG5, ha affiancato Alfonso Signorini nella conduzione della 17esima edizione del Grande Fratello come opinionista in studio, insieme a Rebecca Stafelli, responsabile dei social. In un'intervista a Libero, Buonamici ha parlato della sua esperienza al Grande Fratello e se tornerà per la prossima edizione. Rispondendo alla domanda, ha dichiarato, mi sento bene, ma non è una decisione che spetta a me. Le sue parole riflettono la consapevolezza del ciclo naturale degli eventi. L'esperienza al Grande Fratello è stata lunga e significativa, diventando parte integrante della sua vita professionale. Nonostante l'inevitabile fine, Buonamici sottolinea l'importanza del programma come gioco e come esperimento sociale, in grado di rivelare le sfaccettature delle personalità dei partecipanti. Riguardo alla possibilità di un suo ritorno come opinionista, Buonamici ha espresso il desiderio di continuare nella prossima edizione. Se le verrà offerta l'opportunità, ma ha chiarito che la decisione finale non dipende da lei.